e alle sue parole che vorrei affidare la conclusione di questo lungo percorso che abbiamo solo tentato di fare insieme. Sì, vediamo i miei video. Scompariremo nella storia, le donne afghane hanno di fronte a loro ancora una volta il buio, l'orrore, la scomparsa dietro i quadrati del Burka. Noi gli avevamo raccontato che probabilmente non sarebbe più stato così e di questo abbiamo tutti un pezzo di responsabilità di Afghanistan. Dovremo parlare che ci piaccia o no ancora a lungo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Buonanotte. Grazie